Il percorso Insieme si imprende è ospitato da Lega delle Cooperative FVG, associazione di imprese cooperative che opera per favorire la diffusione dei principi e dei valori cooperativi. Il percorso si rivolge agli studenti dei licei scientifici e degli istituti tecnici e professionali che potranno acquisire e sviluppare competenze professionali di organizzazione di eventi, cura delle funzioni di segreteria e di supporto alle attività didattiche. Il percorso Insieme si imprende, nella durata massima di 40 ore, si svolgerà a Udine ed è attivabile da ottobre a luglio. Il dettaglio del percorso è disponibile nella scheda informativa.